Il venerdì sera ad Adria i locali del centro offrono sempre delle bellissime situazioni, un saluto a tutti da parte di Andrea Bolognese, dal gruppo Facebook i blog di Adria Polesine, eventi Veneto d'Alta del Po ed anche dall'omonima pagina Facebook i blog di Adria del Polesine, sul quale ovviamente potete condividere le vostre locandine, eventi tranquillamente, poi se abbiamo tempo ci facciamo anche il file audio come adesso, anche perché la nostra è una passione quella di tenere questa pagina che è nata tanto tempo fa, grazie a un mio amico avevamo un blog vero e proprio, poi ovviamente Facebook ha un po' trasformato il web, da blog siamo passati a pagina e poi anche al gruppo, va beh. Allora stavamo dicendo, venerdì 18 ottobre i locali del centro di Adria che offrono sempre situazioni molto particolari, infatti questa volta, e ricordiamoli, salutiamo gli amici dell'Atipico e dell'Osteria, intanto offrono a tutti quanti ovviamente per passare una bella serata in piazzetta, DJ set con Sandro Lavezzo e live percussion con Simone Peron, da non perdere assolutamente, venerdì 18 ottobre grazie a Tipico e a Osteria intanto ad Adria, sulla piazza davanti al comune, piazza Luigi Grotto, detto il ciclo di Adria, ecco, vediamo a qualche altro piccolo particolare, ci sarà Sandro Lavezzo DJ set e live percussion con Simone Peron, venerdì 18 ottobre, grazie a tutti per l'ascolto da parte di Andrea Borognese, vi ricordo ancora il gruppo Facebook, il blog di Adria Polesine, eventi Veneto d'Alta del Po e la pagina Facebook, il blog di Adria del Polesine per condividere le vostre locandine, eventi o anche solo per venire a curiosare e diteci pure se vi piace e se non vi piace, ecco, tenetevelo per voi, va beh, grazie a tutti per l'ascolto, ciao, alla prossima. Grazie a tutti.